Mi trovo sul lungomare di Follonica e questo è uno dei pezzi meno vissuti perché è quasi nella parte finale di Follonica, una dei due lati di Follonica che finiscono e anzi con precisione villaggio svizzero e due settimane fa stessa passeggiata non mi ero imbattuta in qualcosa di molto particolare questo cartello è il secondo spero di non vederne altri punto di raccolta soltanto due settimane fa non c'era è quasi spuntato come un fungo no forse non mi sto sbagliando ci mettono più tempo anche i funghi strano no sarà sicuramente un caso cosa potrà mai accadere ma soprattutto perché oggi perché in questo momento al ridosso di cosa e dove qui sul lungomare o all'interno di questo villaggio alla prossima